la catena vai tu ogni posta ti si toglie la catena almeno ti seguo qua è fissa? si luce blu fissa stai riprendendo giusto? deve lampeggiare si si non so che minchia ho preso non so che minchia ho preso sbattuto di brutto non so che! po 녀석 hai Grazie. 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 No. Lascia leggerla un po'. Grazie. 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 Oh, no, no. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ben, c'est faible. Oh. 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 Aspetta, non parmi di bosti e 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 fermarsi qua è un suicidio e e e e passaggio che amare passaggio che amare e 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 buono dai quando è il salto? e e e e